Ha fatto il giro degli smartphone il video della rissa tra ragazze avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa ad Avellino, in via dei concili. Un'inchiesta è stata aperta sulle minorenni che hanno aggredito una coetanea. Nel video ripreso con un cellulare c'è la sequenza della violenta lite. Soprattutto si vedono tanti giovanissimi assistere alla rissa senza fare nulla, è solo un paio di ragazzi che provano a placare gli animi. In particolare si nota la scena di due ragazze che sferrano a ripetizione colpi nei confronti di un'altra. La rissa è avvenuta nella strada della movida del capoluogo, molto frequentata da adolescenti e da appena maggiorenni. A quanto si apprende la famiglia della ragazzina pestata avrebbe presentato denuncia ai carabinieri. Pare che la giovane abbia dovuto ricorrere alle cure mediche per le escoriazioni riportate. Le protagoniste dell'aggressione sono state identificate. Alla base della lite ci sarebbe forse uno sguardo di troppo per un ragazzo conteso. Insomma futili motivi. Non è la prima volta che accade ad Avellino. Già nei mesi scorsi si sono verificati episodi simili.